E' Don Gione E' Don Gione Change the mood Via Delay Este on air 23 60 seconds la cron è sempre da prendere seriamente perché è un test personale dove vedere la condizione che appunto siamo e vedere i watt che spinge, che riuscivo a tenere durante la crono, mediamente cercavo di tenere 370 watt, poi oscillavo tra i 320 e i 420, però un buon test significa che abbiamo recuperato abbastanza bene gli sforzi dei primi tre giorni.